Salve a tutti ragazzi, in questo video giocherò ad Among Us sperando di vincere qualche partita Andiamo su Online E andiamo su Enfin Game E cerchiamo qualche partita ospite Vediamo Questa vediamo Ok, sono entrato raga Abbasso un po' il volume Ecco E attendiamo che entrano altre persone Intanto mi cambio colore Mi piace la maschera di Jason comunque E comunque ora aspettiamo Se non entra nessuno cambio Ok Ancora tre Che stanno dicendo? Ma tuo padre? Bastardo Anche se non capiscono cosa ho detto Oh, mi ha anche censurato No, devo uscire allora Perché ce ne stanno due Live Game Find Game Eh, andiamo Non so Cinque, ecco Perfetto Sette su dieci Ok No, otto Sette di nuovo Ok Sì Bene, è iniziata la partita Non sono l'impostore Quindi Ah, bella questa mappa Salve tizi Shelley Mi sembri un po' sospetto Già dall'inizio L'ho visto È un po' strano Comunque Che cazzo sta succedendo? Devo andare un attimo Chi cazzo sta so... Ok Sì Tre Sette Tre zero zero Vai Appena mi ammazza qualcuno Giuro che Se non sospetto Non è che è stato lui Chiudo il gioco Per ora Vedo tutto Nella normalità Non vedo niente di strano Quindi Pica pica Mi sembra un po' strano Ah È morto questo Ah Ora si deve discutere Allora Quindi Secondo me Sei tu Slogo Slogo Sei tu Bastardo Marrone Ah E allora Secondo me Sei È rosa Pink Cioè raga però Quando non si sa chi cazzo è Qua Y che vuol dire Halway Then where were you Ma che cazzo No vabbè Io ancora la devo votare Quando me è stata lei Questo Non so Ai si ma Dai raga E che ci vuole per votare Tanto di miei messaggi Io Ma che ho fatto io Ah mi sono dimenticato che ero blu Ma non avevo scelto rosso Ah forse si è tolto Vabbè Comunque Secondo me È stato Il rosso Come ha detto lui Red Quindi Che cazzo è? Che è successo? Ah non è l'impostore Vabbè Quindi Ambiate un po' Le panate Eh andiamo Scusate Andiamo a scoprire Chi è l'impostore Ehm Comunque Ah Ha capito già chi è Vediamo Non sospettavo di questo voto Così Rapido Cosa? Yellow Sì Ma vaffanculo Shelly Lo so che sei tu Già ti vedevo sospetto Dall'inizio Sto bastardo Oppure sta puttana Non so Scusate se Se poi youtube non censura Non lo so In verità dovrei censurare io Però non so se Vabbè Io voto Shelly Perché è lei Oppure lui Non lo so Quindi Ehm Dai Eh raga però Bluestart Che cazzo ho fatto Io non ho fatto niente Sono l'unico che non ha fatto un cazzo Eh Ok È Shelly Ti sicuro È lei Seguiamo 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 Shelly Brava Sta facendo come me Sta seguendo anche lei Oppure lui Non lo so Vedete Tutti che seguono Shelly Che cazzo Ah Ora è aperto Cazzo di nuovo No È questo bastardo Madonna Mannaggia E io che sospettavo che era Shelly Invece era quello Ragazzi Madonna Si bastardo Eccolo È lui Oh Ok Io sono morto Allora Quindi Visto che Anche se scrivo Non vedo i miei messaggi Inutile che chat Quindi vedo Se riescono a A scoprire Chi è l'impostore No Non è Non è giallo Vaffanculo È il viola ragazzi Mi han frizzato la lingua Nella gola Dai forza Raga È che cazzo Che cazzo Abbandona il gioco Questo Non lo so Ma comunque Spero che Hanno votato tutti il viola No ma che Cosa c'entra Che c'entra Shelly Ma no È sto bastardo Ma muri male Comunque non mi ricordo Se era Il rosa Oppure il viola Ma Secondo me È stato il viola Dai ragazzi Shelly Che cazzo fai qua Madò Ah secondo me È il viola Perché sta fermo Mi sa che è lui Che mi ha ammazzato Vuoi uccidere questo? Sì È il viola Ragà È sto bastardo Mi ha ucciso Anche a me Dai Infame Dove cazzo è andato Proprio bastardo Comunque questa partita È veramente lunghissima Spero che finisse Velocemente Tutti che seguono A sto bastardo È normale Stronzo Beh stanno morendo tutti E nessuno riesce a capire Che è sto No one Bastardo Viola Madò Violette Vabbè tanto non possono Dei messaggi Anche se lo scrivi Non è violette Viola Boh non lo so Sì Ma che è un nome Non ho capito È uscito dal gioco Non era viola Scusa Boh Vabbè Ragà Spero che questa partita Among Us Vi è piaciuta Mettete like E commentate Se avremmasuto Senza parole Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.